La Dottoressa E' un rapporto benefico per tutte e due Io personalmente incoraggerei un'uscita in coppia Dice sto troppo male per tenere il bimbo Una mattina vengono a prendermi le notti C'è anche i carabinieri Allora curatemi no? Datemi Elia Che mi curate levandomelo Oh c'è un autobus! Che si prende un autobus a casa? Venite! Se denunciando la scomparsa si aggrava moltissimo la loro posizione E' che dobbiamo aspettare che rapiscono il figlio Che malmenino qualcuno La macchina! Ma abbiamo anche una macchina Ci diamo una pezza gioia Comunque comprate un quadernetto per scrivere i tuoi cosini Invece di avere tutto il corpo così E' bello E adesso facciamo così Tu ti riprendi con calma E poi ti faccio portare in comunità E te, bimba mia Ti devi aiutare da sola Per poter ricordare Ma siete mati? Eh, secondo alcune perizie sembrerebbe di sì Non mi importa della luna Non mi importa delle stelle Mera male che ci senti Io Te Te Tu per me sei sole e cielo Tu per me sei tutto quanto Sapevate che Spectre è decisamente il capitolo di James Bond più costoso? Il film ha avuto un budget di circa 350 milioni di dollari Però Per altre curiosità e tanti tanti trailer Cliccate qui accanto Qual è il vostro James Bond preferito? Il mio Sean È superabile Ciao